Oggi è un grande giorno per l'ospedale Gaslini perché abbiamo conosciuto i nuovi vertici di Banca Carige, un altro marchio di eccellenza della città di Genova che ci fa piacere avere al nostro fianco, peraltro con delle iniziative anche per questo prossimo Natale molto significative per i nostri bambini e per le loro famiglie. Siamo molto contenti che anche quest'anno ci sia un pensiero a chi passerà un Natale magari un po' meno felice, un po' meno sereno di tanti altri. Credo che questo primo incontro sia l'inizio poi di una collaborazione fattiva, noi vorremmo anche ricevere poi il Presidente per una visita alle nostre strutture che credo che siano significative da conoscere proprio per poterle esprimere, capire meglio e portarle in giro, proprio per sensibilizzare. A Natale vorrei, è il claim del modo in cui vogliamo essere vicini ai nostri clienti, anche quest'anno abbiamo pensato che anziché una strena, il modo più bello per essere vicino ai nostri clienti, essere vicino a un'istituzione che fa tanto, fa tanto per la salute, fa tanto per la salute dei bambini ed è una vera e propria bandiera per Genova, parlo ovviamente del Gaslini, per noi è un onore essere a fianco del Gaslini e i nostri clienti lo apprezzano tantissimo, l'abbiamo già fatto l'anno scorso, lo vogliamo rifare quest'anno, è un modo per essere utili, essere utili a Genova oggi è più importante che mai, il Gaslini è un po' la bandiera del modo di essere utili e di fare cose importanti, il Gaslini insieme a noi di Banca Carigia, i nostri clienti ritiene che quest'anno più che mai sia importante fare sistema, essere tutti uniti anche alla luce degli eventi tragici che ci sono stati a Genova, ma certe volte dalle cose brutte nascono cose belle e se vogliamo proprio il Gaslini è una testimonianza di questo.